Tempo un mese e divento figa come te. Che ci va? Chi vuole? Volontà! Volontà! Eh, ma cos'è? Amo! Vi sa che la bilancia è rotta! Domani comincia la dieta. Giuro. Tanto, ho detto un anno da dieta. Snellente in sette matti. Massimo dell'efficacia è il mio letto già in sette notti. No. Un po' di giacizzi non fanno mai male. No, no, no. Laura, che fai? Convivi i guai? Oh, mi sta giocando la buona vita della palestra. Peccato. No. 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 Non capisco cosa ci trovo Buongiorno doppio cheeseburger con salsa negli omegu, salsa barbecuit, barbecuit, barbecuit Dopo i capecchini fritte, le capecchini sono verdure d'oro e una coca cola like però Forse non dovevo metterle in viso Brucia, brucia, brucia Chiuditi Chiuditi Finito Chiuditi Chia ti calabati Uuuuuuuuuuuu Grazie a tutti